Radio DJ Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia del mondo della musica una strana storia perché è strano il personaggio che la anima un genio della musica sicuramente ma pieno di contraddizioni e del resto sono così le storie non cadono dal cielo, le fanno gli uomini che le vivono e se questi sono strani, pieni di contraddizioni allora sono così anche le storie che raccontiamo allora questa è una strana storia controversa perché è la storia di un grande musicista e di un grande chitarrista che si chiama Eric Clapton non ci sono lacrime in paradiso lo dice il ritornello di una canzone di Eric Clapton Tears in Heaven che dovrebbe essere soltanto un brano in una colonna sonora di un film giallo un thriller così così che si chiama Rush due poliziotti della narcotici che indagano su un trafficante bello ma insomma niente di speciale Tears in Heaven però non è soltanto quello un brano in una colonna sonora l'altro autore della canzone Will Jennings è un professionista di soundtrack di successo ha scritto tra l'altro My Heart Will Go On cantato da Celine Dion in Titanic ecco lui, Will Jennings quella canzone non voleva scriverla quando Eric Clapton gliel'ha proposta lui ha pensato che forse non era il caso perché non se la sentiva di affrontare una cosa così personale ma perché? cosa c'è di così particolare in quella canzone? tanto da spaventare un autore come Will Jennings che significano quelle lacrime? beh, chi conosce quella storia già lo sa chi invece non la conosce ancora gliela raccontiamo noi Eric Clapton ha un figlio che si chiama Connor lo ha avuto con un'attrice e subretta italiana che si chiama Lori Del Santo quella di Drive-In dei film un po' così degli anni 80 dell'Isola dei Famosi ecco, Lori Del Santo è sicuramente una donna molto bella conosce Eric Clapton dopo un concerto a Milano e i due hanno una relazione da cui nell'86 nasce un figlio Connor nel 1991 Lori e Connor sono in un appartamento che sta al 53esimo piano di un grattacielo sulla 57esima a New York sono lì perché la storia con Clapton è finita ma è Pasqua e Clapton vorrebbe stare con suo figlio per cui eccoli tutti a New York quella mattina Connor è affidato alle cure della babysitter giocano per l'appartamento giocano in nascondino corrono dappertutto Connor è un bambino a 4 anni non sta mai fermo schizza via per il corridoio e si infila nel salone e la babysitter dietro nel salone c'è il portiere occhio dice è lì per fare le pulizie e visto che è una bella giornata ha aperto le finestre per cambiare aria Connor è un bambino e i bambini sono così a 4 anni bisogna starci attenti perché schizzano come razzi appena uno si distrae un momento dov'è Connor? la babysitter ha avuto appena il tempo di sentire quello che le ha detto il portiere che Connor nella stanza non c'è più c'è solo la finestra aperta la finestra di un grattacielo 53 piani più sotto c'è Connor Eric Clapton arriva poco più di un quarto d'ora dopo trova una gran confusione gente che piange l'orida il santo disperata quello che si può immaginare dopo un incidente del genere anche Clapton resta sconvolto e per settimane non riesce a fare più niente non riesce a lavorare a uscire neanche a parlare poi si riprende e fa quello che fanno gli artisti siano musicisti scrittori o pittori o qualunque cosa usa la sua arte per esprimere questa cosa qui l'occasione è la colonna sonora di quel film Will Collins ha qualche dubbio in effetti una cosa molto personale poi ci sta e aiuta Clapton a comporre una delle più belle canzoni sicuramente una delle più dolci e più tristi della storia del rock devo essere forte dicono le parole di Tears in Heaven devo essere forte e andare avanti perché lo so che il mio posto non è in paradiso Eric Clapton è sicuramente un buon padre è un padre addolorato per la morte del figlio ma è anche una rock star una di quelle di una volta e lo sa che secondo i canoni ufficiali secondo i parametri standard della santità il suo posto non sarebbe proprio il paradiso perché Clapton è uno dei più grandi chitarristi della storia del rock è Eric Clapton che dal ragazzino che suonava per la strada nel West End e nei suborghi di Londra diventa l'anima blues degli hardbirds poi li molla per formare i Krims ed ha un tale successo che i fan lo chiamano Dio e così resta per gli altri gruppi con cui suona e anche per gli anni in cui suona da solo insomma uno che fa la storia della musica e questo non si discute però Eric Clapton è anche una rock star è quello di cocaine che sarebbe solo una canzone e addirittura una canzone contro la droga se non fosse che con la droga Eric Clapton ha un altro rapporto molto meno critico frequenta un ambiente in cui di roba ne gira parecchia di tutti i tipi ma lui fa sul serio comincia a metà degli anni 60 con l'eroina la mescola all'alcol due bottiglie di brandy al giorno per un periodo parecchio lungo ci risolve le delusioni amorose ci consola anche una serie di morti improvvise che lo colpiscono molto come quella di Jimi Hendrix nel 1970 e quella di un suo compagno di gruppo Dwayne Allman con cui suonano i Derek and the Dominos Dwayne muore in un incidente stradale si schianta contro un autobus nel 1971 così Clapton finisce per ridursi ad un vegetale si chiude nella sua casa del Surrey si droga e beve fino a quando finisce l'effetto e allora ricomincia da capo volevo entrare nel tunnel per vedere la fine scrive nella sua autobiografia Eric Clapton The Autobiography ma la cosa mi sfuggì di mano esce solo per suonare il concerto di beneficenza per il Bangladesh organizzato da George Harrison ma sviene sul palco dal cosiddetto tunnel esce solo grazie all'aiuto di Pete Townsend degli Who poi ci rientra e ne esce di nuovo smette di drogarsi per concentrarsi sul bere così da drogato diventa alcolizzato racconta tutto nella sua autobiografia dice che ad un certo punto aveva pensato anche di suicidarsi ma l'idea che poi non avrebbe più potuto bere lo ha fermato piano piano ci riesce a disintossicarsi tra amici mogli e rehab ospedali e centri di disintossicazione altrimenti avremmo avuto adesso la storia di una rock star morta di cirrosi o di overdose e nessuno dei grandi dischi che ha fatto in tutti questi anni come dice lui stesso in una serie di interviste e nella sua autobiografia per la droga ha speso parecchio qualche milione di sterline che appunto nonostante sia una delle tipiche contraddizioni da rock star non ricade propriamente negli standard classici per il paradiso radio dj dj stiamo raccontando le contraddizioni di un grande della musica come eric klepton per i suoi meriti ovviamente basta ascoltarlo noi ci occupiamo della metà oscura delle cose appunto beh c'è un altro bel momento di contraddizione nella storia di eric klepton ed è il concerto di birmingham del 5 agosto 1976 klepton viene dal blues è con quello che ha cominciato ad amare la musica ed è con quello che ha cominciato a suonarla i suoi idoli sono stati i musicisti neri come muddy waters e bb king o i classici come robert johnson è l'unico degli yardbirds a riuscire a collaborare con un bluesman pazzo come only wolf insomma tra i bianchi eric klepton è sicuramente il musicista più nero che c'è non solo klepton partecipa a tanti concerti per beneficenza a favore dei paesi in via di sviluppo e anche a favore dei diritti civili delle minoranze poi un giorno c'è questo concerto a birmingham en 1976 e quello è un periodo in cui klepton si fa e beve di brutto sarà per quello ma a metà del concerto si mette a parlare di politica c'è un uomo politico inglese che si chiama enoch powell ed è così conservatore che mette in barazzo lo stesso partito conservatore di più powell è parecchio nazionalista isolazionista e anche un po' razzista uno dei suoi discorsi più infuocati contro gli immigrati e l'immigrazione è talmente duro che provoca una legge contraria contro la discriminazione razziale bene powell non è certo il tipo di uomo politico che ti aspetti riscuota i favori di una rock star soprattutto di un bluesman come eric klepton invece quella sera a birmingham che è la città di powell klepton smette di suonare e fa un discorso a favore di enoch powell dice che l'inghilterra è invasa dagli immigrati tanto che sta diventando una colonia nera dice che è d'accordo con powell bisogna ributtare in mare quei wogs che è una brutta parola molto offensiva per indicare la gente di colore che viene dalle ex colonie britanniche l'inghilterra è per i bianchi e lui non vuole tutti quei wogs a vivergli vicino keep britain white dice la fine conserviamo l'inghilterra bianca sembra di sentire un leader del national front il partito che raccoglie l'estrema destra inglese e keep britain white è proprio lo slogan del partito di quegli anni sembra di sentire ian stewart degli screwdriver uno dei gruppi storici dei bone e degli schinet di destra quello che canta white power naturalmente succede un casino klepton viene attaccato da un sacco di gente per il suo discorso anche perché appunto non ci fossero stati neri in inghilterra o dovunque non ci sarebbe stato neanche eri klepton come fanno notare parecchi critici in ogni caso come per il discorso di powell anche quello di klepton sul palco del concerto di birmingham , ottiene l'effetto contrario c'è molta amiguità in quei tardi anni 70 rispetto al razzismo e nazismo c'è david bowie che viene sospettato per alcuni suoi atteggiamenti da dandy del periodo duca bianco quando si lascia scappare che ammira hitler in quanto prima rock star del mondo poi c'è la maglietta con la svastica di sidvicius provocazioni atteggiamenti in ogni caso meglio essere chiari e così nasce l'organizzazione rock against racism che comprende musicisti e gruppi come i clash o gli shame 69 e poi tante altre iniziative simili che mettono insieme gruppi musicali schierati a sinistra o anche soltanto contro il razzismo il fascismo o la guerra klepton prenderà le distanze da quella sera anche se non del tutto dirà che non si è mai interessato di politica che non gli interessa il colore della gente che è stata una cosa più o meno goliardica alla monty python qualunque cosa sia quella sera dice una frase che forse può dare un senso al suo discorso dice una volta ero un drogato adesso sono un razzista che più o meno è la stessa cosa che dice bowie quando si giustifica per quello che ha detto del nazismo ero solo interessato all'occultismo a queste cose strane e comunque prendevo troppa droga un giorno eric klepton va a farsi intervistare da larry king nella sua trasmissione è un evento perché come gli fa notare larry king klepton non si fa intervistare quasi mai ed era nella loro wish list la lista dei desideri da parecchio tempo beh klepton dice che è un disco in uscita che vuole pubblicizzare il centro di riabilitazione per alcolisti che ha fondato l'antigua nei caraibi la fondazione crossroads tante cose insomma ma evidentemente ha voglia di parlare anche se all'inizio lo fa a monosillabi come al solito ad un certo punto larry king gli dice much tragedy much happiness in the eric klepton life molta tragedia e molta felicità nella vita di eric klepton non ti sei mai guardato intorno e hai detto sono sulle montagne russe in effetti eric klepton nella sua vita scrive e compone canzoni di successo e intanto beve e si droga come se volesse uccidersi e poi si disintossica e mette parte dei diritti di quelle canzoni per costruire il suo centro di riabilitazione nei caraibi suona concerti politicamente corretti per la solidarietà e la tolleranza e si lascia scappare frasi razziste passa da una donna all'altra come dice Larry King una alle due poi una alle cinque poi una alle sei sperando che se ne vada prima di quella nuova delle due però poi si innamora si sposa perde amici carissimi perde anche un figlio e intanto continua a scrivere e suonare bellissime canzoni insomma le montagne russe si dice klepton è vero ed è una cosa che mi piaceva è come stare in mezzo all'autostrada il pericolo gli piaceva adesso però le cose sono cambiate adesso dice klepton c'è solo la musica suonare cercando di fare in modo che vada tutto bene senza nessun aiutino esterno gli chiede Larry King e come aiutino esterno intende la droga naturalmente klepton gli risponde con un grugnito che dovrebbe voler dire sì senza nessun aiutino però non ci sono le parole solo quel grugnito senza droga sarà vero? ce la farà Eric Clapton ad andare in paradiso Radio DJ Carlo Lucarello DJ chiede 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 chiede